Il 2017 inizia subito fortissimo, proponendoci dei grandi ritorni attesissimi sul mercato videoludico. Il primo è Resident Evil 7, che dopo due demo claudicanti è riuscito a confermarsi un prodotto decisamente affascinante e da tenere d'occhio. Poi segue Kingdom Hearts 2.8, l'ultimo raggruppamento di titoli che ci permetterà di chiudere l'intero percorso affrontato con la saga Disney e Square Enix. Senza dimenticarci poi di Dragon Quest VIII, che torna a 11 anni di distanza su Nintendo 3DS dopo il suo debutto su PlayStation 2. Sono trascorsi esattamente 11 anni da quando il nostro soldato ha dovuto accompagnare il re e la principessa in un lungo viaggio alla ricerca di una soluzione per la loro maledizione. Spariti completamente gli incontri casuali che portano tutti i mostri sull'overworld, Dragon Quest VIII riporta tutti i giocatori europei indietro nel tempo, quando su PlayStation 2 Enix provò l'ultimo assalto al mercato occidentale, proponendoci una piccola perla del mondo JRPG, che finalmente torna in auge. Il Dream Drop Distance passa da 3DS a PlayStation 4, diventando il più frenetico dei Kingdom Hearts, prende mente a 60 fps. Poi tocca al Birth by Sleep, dar vita al capitolo 0.2, che anticipa tutte le qualità tecniche che dovrà avere Kingdom Mars 3. E infine Kingdom Hearts Key Backover, che ci porterà indietro nel tempo per fornirci il background della guerra dei Keyblade. Tutto questo sarà raccolto in Kingdom Hearts 2.8, l'ultima collector che precederà poi l'opera magna attesa per il 31 marzo con Kingdom Hearts 1.5 e Kingdom Hearts 2.5. Probabilmente Resident Evil 7 sarà la prima killer application per il PlayStation VR, ma il nuovo titolo Capcom è atteso anche su Xbox e PC, ridisegnando lo stile dei recenti capitoli e portandoci in un horror completamente in prima persona, che condizionerà ogni nostro passo, mettendoci un altissimo livello di ansia addosso e infilandoci in una strana villa dove accadono eventi inaspettati e che non possono essere controllati da un normale umano. Il 24 gennaio sarà anche il momento di tornare in Giappone e rivivere gli avvenimenti del dicembre 1988 tra Kamurocho e Sotenbori, una ricreazione dell'area di Kabukicho di Shinjuku a Tokyo e di Totonbori a Osaka. Stiamo parlando chiaramente di Yakuza 0 e la sua grande novità in attesa dell'arrivo di Yakuza 6 sarà la possibilità di cambiare stile di combattimento nel corso della nostra battaglia sia per quanto riguarda Kiryu che Majima. 15 anni dopo l'arrivo del primo Digimon World, Bandai Namco Entertainment porta Next Order anche in Europa, in anticipo rispetto al mercato giapponese ma in esclusiva per PlayStation 4, snobbando l'uscita per console portatile. 15 anni fa ci fu l'apice del successo del brand che poi in occidente iniziò a subire una parabola discendente, ma con Next Order l'obiettivo è quello di premere sulla nostalgia perché torneremo nello stesso mondo digitale conosciuto sulla prima console Sony, con un rinnovamento sia narrativo che di gameplay nei panni a nostra scelta o di Takuto o di Shiki.